se ti va dai un consiglio a tutti quanti noi della community di F4 come fotografi di strada che ne ho dati per due ore eh no ma un altro quello alla fine ragazzi no io credo che a parte gli scherzi a parte che è vero che ho dato consigli per due ore però a principale da questo io credo che il consiglio principale sia quello di quando noi ci arroghiamo il diritto di commentare fotografie di altri arroghiamoci il diritto di commentare le nostre ma perché sai quante persone commentano le foto eh no ma questa così, quell'ì, qualsiasi sia il commento e poi invece dall'altro lato hanno prodotto la stessa cosa e non se ne rendono conto allora buongiorno buongiorno come di cano o fio? è lui quello con lo stomaco forte grazie grazie a lei tolto la suoneria perfetto prima di tutto direi un c allora benvenuto innanzitutto all'angelo ferrillo grazie in questo nostro primo appuntamento fuori casa perché solitamente questi miei incontri queste mie chiacchierate le faccio nel mio studio lo chiamiamo lo studio ma in realtà lo scambuzzino ho approfittato di questa tua disponibilità qui a Napoli perché mi piaceva l'idea di lanciare anche quest'altra cosa un progetto che ho quello di andare in realtà a incontrare i fotografi nelle loro realtà e passarci anche una giornata insieme magari anche fare qualche scatto insieme che è una cosa che mi piacerebbe molto con te questa cosa oggi purtroppo non è possibile perché sei super impicciato ma non è detto che se ci staremo simpatici tra l'altro nel mio ambiente relativamente perché io sono napoletano ma vivo a Milano da 19 anni ma sei napoletano assolutamente in primis e questa cosa la porti sempre con orgoglio in ogni lavoro che fai ti seguo da tanto e so che questa è la saturazione tra l'altro ho fatto anche un lavoro su Napoli nel nel 2022 nel 2022 ho fatto il mio primo lavoro su Napoli dove io non mi ero mai scimentato fotograficamente se non soltanto con delle foto spot ma proprio una struttura progettuale ben cadenzata tra l'altro anche commerciale perché è stato un lavoro fatto per per un brand di beverage abbastanza importante a livello internazionale ed è stata la prima volta che mi sono scimentato proprio da un punto di vista progettuale su Napoli il lavoro sul gin sono sbagli esatto per me è stata una mezza è stata una sorta di ricerca personale più che per il cliente perché al di là della tematica perché comunque dovevamo rappresentare eravamo cinque fotografi che dovevano interpretare il concetto di mediterraneità dove ognuno di noi ha deciso di intraprendere fotograficamente il proprio percorso quindi io ho scelto Napoli proprio per per mettermi a confronto fotograficamente con la mia città c'è stato uno degli autori che ha fatto le saline di di Trapani c'è stato un lavoro sulla Sardegna un lavoro su Firenze un altro lavoro invece sul sul lago quindi voglio dire c'è stata una commissione di linguaggi che fortunatamente ha funzionato di cui io tra l'altro oltre a essere uno degli autori ero anche il diciamo il direttore creativo perché il progetto base nasceva dalla mia idea proposta al brand che poi ha accettato ed è stato sostenuto anche da l'Aita per per quanto riguarda poi la la messa in servizio del progetto stesso comunque al di là di questo io è stata la prima volta che mi sono cimentato effettivamente su su Napoli e su una visione progettuale di di Napoli mia visione progettuale di Napoli e devo dire che sono rimasto molto soddisfatto quindi ne farei altre non lo so allora io avevo una serie di problematiche mie con con la città io sono andato via nel 2004 da Napoli proprio perché avevo maturato una serie di intolleranze non tanto ai luoghi ma proprio all'espressività della del del lifestyle e poi questa cosa io non mi sono mai cimentato in un lavoro fotografico nei confronti di Napoli proprio perché l'amore sicuramente profondo per la città non volevo fosse intaccato da una serie di intolleranze che fanno i motivi che ti hanno mandato alla portatoria esatto e quindi fotograficamente sarebbe venuto fuori non sarebbe stato giusto nei confronti della città quindi ho aspettato il momento giusto il momento giusto è arrivato con questa commissione da parte del cliente che fortunatamente è andata bene ha avuto anche un riscontro internazionale abbastanza importante quindi diciamo che è stato è stato un ottimo un ottimo esordio nei confronti di Napoli e quindi e quindi hai anche superato queste intondanze quasi sono sulla buona strada ci stiamo ancora annusando ma meglio la città però va bene insomma da io ormai tutti quelli che mi seguono lo sanno non sono propriamente bravo a organizzare interviste eccetera perché non sono uno che si prepara un granché mi piace sarà perché sono zingaro di natura comunque sono più medicinale di te sono calabrese o sarà per il fatto che sono veramente nato e cresciuto in strada ma mi piace molto la spontaneità quindi tutto quello che viene mi piace un po' interpretarlo e riuscire a trovare il bello in ogni cosa e da questa ultima cosa che mi hai detto mi viene mi sorto una domanda tu hai detto hai avuto bisogno di tempo andando via da Napoli per superare quelle intoleranze che ti avevano portato via per evitare che nell'interpretazione tua oggi di Napoli avresti potuto compromettere un po' quest'amore che tu hai assolutamente quanto è importante e prendiamo un po' tutti quanto quanto è importante in una fotografia lasciare che i propri sentimenti le proprie emozioni decantino allora è una domanda non mi farebbe solo me no allora è una domanda alla quale la risposta è abbastanza spontanea dal mio punto di vista cioè la segmentazione è fondamentale io da un punto di vista didattico affronto sempre la cosa con i miei studenti dicendogli di se non c'è un motivo puramente commerciale quindi lavorativo per cui hai dei tempi serrati di produzione allora il discorso è diverso però nel momento in cui ci troviamo di fronte a quello che può essere definito un lavoro personale allora di prendersi del tempo realizzare fotografie di quella che è la tematica quindi non solo ed esclusivamente per quanto riguarda la fotografia di strada lasciarle lì sedimentare aspettare che comunque tutta quell'energia quella adrenalina nel momento in cui si sta fotografando che masse perché si ha una visione di quello che è il risultato ottenuto molto più realistico e automaticamente ti permette di essere molto più obiettivo poi sul concetto di obiettività personale sulla propria produzione poi lì si apre un altro capitolo e magari ne parliamo dopo però automaticamente è questa considera che John Berger in un suo libro c'è un passo che dice la fotografia è un gioco non con la forma ma con il tempo quindi tutto quello che è la forma da un punto di vista accademico lo intendeva che tu vai inserire nella fotografia lascia il tempo che trova mentre invece è un concetto legato al tempo la fotografia non tanto tempo inteso come un 125esimo ma è il tempo che tu dedichi a te stesso alla maturazione alla realizzazione di quel contenuto e anche al tempo di sedimentazione quindi e io condivido in pieno quello che è questo pensiero in realtà senza volerlo stai dando valore è una cosa che sostengo da sempre è che una delle parti più importanti della fotografia è proprio l'editing cioè la scelta veramente di cosa inserire in un lavoro di cosa far diventare poi un progetto questa per me è la cosa la parte fondamentale Angelo noi ci siamo incrociati telefonicamente un paio di anni fa perché quando decisi che per me la fotografia doveva diventare una forma di espressione avendo abbandonato ormai la chitarra la penna e tutto il resto e quindi volevo che la fotografia per me diventasse l'unico modo per esprimermi io ti cercai proprio per per fare con te un corso poi tal'altro era appena finito il covid o comunque non era del tutto finito la pandemia tu eri fermo e ci siamo dati appuntamento poi a quando tu avresti fatto qualcosa perché ti eri fermato ovviamente per esigenze democratiche diciamo così di stop perché cercavo in te tutta questa armonia che a me serviva e che comunque sono sempre alla ricerca per fare delle buone produzioni fotografiche e per trasferirle in quella che oggi è la mia community di F4 perché in questo io sono convinto tu sia una persona che può dire molto proprio a livello di armonia e qui ti faccio la domanda non sei una persona e questo lo dico perché insomma ti seguo ti avevo cercato per imparare da te e non sei una persona non sei un gradasso e già questa è una rarità in questo mondo poi tu mi confermerai se vuoi ma non ti devi esporre in questo e soprattutto non sei una persona che utilizza l'io quando parla o quando vuole esprimere un concetto eppure sui tuoi profili c'è un'unica cosa di cui tu vai fiero perché la scrivi ed è un commento che ti ha fatto un certo Giovanni Gaster e mi permetto di farti questa domanda perché io rivedo ho sempre rivisto nel tuo lavoro che è stato il motivo per cui ti ho cercato e per cui oggi ti ho chiesto questa nostra chiacchierata questa tua capacità e questa tua attenzione di guardare sempre i particolari e soprattutto di far uscire sempre ciò che è maggiormente intimo dalle persone che ritrai questa è una tua dote innata o ci hai lavorato non te lo so nel senso che allora per una volta si gradas ti ho fatto la premessa opposta no ma non è una questione di essere allora scusa ci sono delle allora intanto c'è molta confusione molte volte tra consapevolezza e eventuale spocchia delle persone perché c'è chi è consapevole è lo esterna perché è giusto che sia così cioè il fatto di riferirsi sempre allontanandosi non sempre è un indice di di umiltà cioè nel senso che il fatto di essere consapevole di quello che si fa di quello che si realizza e del proprio tenore in questo caso parliamo di fotografia ma in realtà è un criterio applicabile a tutta la vita non significa che una persona se fatto con le parole giuste con i modi giusti nel contesto giusto sia una forma di espressione di che è una sopravvalutazione ma in realtà se tu sei consapevole di quello che sei quello che fai e di come lo fai esprimerlo non è affatto sbagliato per quanto riguarda e parto da quello che è stato l'intervento tuo per quanto riguarda la questione di Giovanni io ho avuto la fortuna di collaborare con Giovanni per tanti anni non da un punto di vista fotografico cioè nel senso che non nel senso fotografico stretto del termine io sono stato all'interno del direttivo di AFIP l'associazione fotografi professionisti sono stato vicepresidente per un periodo di non mi ricordo sei mesi circa dopo dopo l'uscita dal direttivo di Giovanni che è stato il presidente per tanti anni e di Giuseppe Biancofiore che era il vicepresidente e quindi la collaborazione è stata in quel senso dove noi ci siamo confrontati per anni io sono entrato in AFIP nel 2013 e quasi alla fine del 2013 sono entrato nel direttivo e sono stato all'interno di AFIP fino al 2021 quindi è stato un percorso che intanto mi ha dato tantissimo mi ha dato la possibilità di conoscere i più grandi fotografi devastanti storia ma veramente perché all'interno di AFIP è un'associazione dove hanno storicamente levitato i più grandi fotografi della storia nazionali e internazionali nazionali riconosciuti nell'ambito internazionale internazionali che come un peso interfacciavano con l'Italia quindi quella roba lì è stata per me una delle più grandi scuole cioè il fatto di riuscire a dare del tu a persone che prima quando io studiavo continuo ancora a studiare sotto determinati canali li vedevo solo nei libri di storia di fotografia e diventavano dei riferimenti visivi dove un po' una sorta di miti il fatto di riuscire ad avere il contatto fisico con queste persone e dargli del tu e riuscire a mitizzare meno la persona l'irraggiungibilità della persona è stato secondo me ancora oggi sono convinto una delle più grandi scuole che io ho fatto ci sono tanti eventi nella mia vita fotografica che io definisco sicuramente molto più produttivi e molto più didattici rispetto alla didattica stessa uno di questi è sicuramente stare a contatto con Giovanni e fare progetti che poi sono stati tutti quanti pro bono cioè noi non facciamo niente per il pubblico a pagamento uno dei più grandi progetti architettato da Giovanni è stato quello dell'Ezio Magistrali Centriennale di Milano che adesso sono tutte disponibili tutte su YouTube possono essere seguite e diventano automaticamente un bacino didattico per chi si avvicina alla fotografia ma non solo per chi si avvicina perché il secondo me il problema è quello riuscire a riconoscere che il confronto costante e la possibilità di erudirsi e continuare ad esprimersi in una forma evolutiva è il plus di ogni professionista non solo nel campo della fotografia in qualsiasi caso io ho avuto la fortuna di avere questi questi maestri a portata di mano tutte le settimane noi ci incontravamo una volta alla settimana c'era il direttivo ed era la possibilità di toccarli fisicamente ma che bello guarda ne parli veramente con orgoglio da una parte e continui comunque nonostante dire guarda ho demitizzato alcuni personaggi continui a parlarne con una reverenza ma certo assolutamente allora io non sono io non sono uno di quelli che chiama i fotografi maestro nessuno scherzo solo con uno dei miei più grandi amici della fotografia che è Francesco Cito e quando ci sentiamo ci sentiamo due o tre volte alla settimana io scherzo faccio maestro come stai però ne siamo dei grandissimi amici ed è una delle più grandi fortune che ho ad esempio per dire un altro di quegli eventi che io reputo dattici e quindi formativi è stato il trasloco da Milano a Barletta di Francesco Cito che è durato tre mesi dove tutti e due abbiamo lavorato per metter via 32 anni in Milano con il suo archivio tutti i giorni dalla mattina alle 8 alla sera alle 9 compreso il viaggio in Panda no ok assolutamente diventa un'opera ciclopica no il viaggio in realtà è stato fatto in più spot dove abbiamo organizzato delle discese giù a Barletta con addirittura una volta con un tir quindi è stata una roba molto impegnativa però assolutamente e il fatto di mettere le mani nel suo archivio tutti i giorni e ogni fotografia era un aneddoto era una spiegazione di come nasceva quella fotografia da dove proveniva il senso ecco quella secondo me è stata la parte didattica più formativa in assoluto per me poi ovviamente ognuno ha i suoi caratteri per quanto riguarda il fatto di non esprimermi allora io ho questa cosa che non so se è una cosa positiva o negativa io ad esempio per dire con i miei studenti di IED ma non solo anche delle accademie dove collaboro e dove collaboravo io da un punto di vista formativo teorico è molto difficile che utilizzo delle mie foto per riferirmi ai miei alunni e ma non perché io non credo nel mio lavoro ci mancherebbe cioè farebbero da stupidi il problema è che si rischia chiunque si rischia di diventare autoreferenziali dove in una fase formativa in una fase in cui tu stai dando degli input di conoscenza non ti puoi permettere di vincolare con dei paletti mentali tra l'altro delle giovani nenti che poi si stanno laureando in design della comunicazione in fotografia e in altre materie comunque creative non puoi mettergli quel tipo di paletti dove la tua conoscenza diventa la loro conoscenza il rischio qual è uno di tarpare le ali della loro creatività ma la seconda cosa ancora peggiore è il fatto di creare ogni anno 25 cloni di Angelo Ferrillo e se tu metti che sono 12 anni che insegno quindi 12 anni per 25 guarda quanti Angelo Ferrillo ci sarebbero in giro mica peggio di un coniglio sarebbe stato sarebbe troppo già uno già uno basta e avanza sì esatto quindi figurati averne da un punto di vista fotografico così tanti ad esempio io nei miei workshop di due giorni o di una settimana quindi questa experience io non dico mai come uno fotografare le persone mai cioè non è non è non è il mio stile ma non è neanche secondo me produttivo da un punto di vista didattico io dico io faccio così prendete quello che ritenete evolutivo e fatelo vostro cioè fate una selezione deve essere chi interviene alle mie presenze a capire quando fermarsi cosa prendere cosa fare proprio cosa andare a cancellare del proprio perché comunque c'è una distonia tra quello che sapevano e quello che adesso sanno il confronto confronto costante quello secondo me è il è il valore aggiunto dal mio punto di vista rispetto a quello che io faccio didatticamente è una mia idea ovviamente e forse lì è la parte in cui io sono diciamo più presente e più consapevole cioè io mi rendo conto che comunque io non posso permettermi non posso arrogarmi il lusso di dire tu devi fare così uno perché io non sono in grado proprio dal mio punto di vista ma poi perché sarebbe effettivamente creare un qualcosa che non è reale te lo posso fare una confidenza no che gran peccato non esserci incontrati due anni fa mi sarebbe servito e non è detto che io non ti raggiunga appena di nuovo ti libererai in qualche corso perché sono ero convinto due anni fa e sono convinto ancora oggi di più che ti conosco sto avendo questo piacere di parlare con te che tante delle cose che dici fanno parte del mio mondo del mio modo di pensare e io proprio un paio di settimane fa insomma nella recitazione di un video perché poi mi concedo questo monologo settimanale per la community parlavo proprio di questo della capacità di essere maestri che uno dei uno dei mestieri più complicati e più delicati che esistono al mondo e io sono figlio di maestri d'eccezione e non in fotografia per carità anche in fotografia però nella vita uno è stato lo ricordo mi astengo dalle sue opinioni politiche perché poi in realtà da quando è andato è entrato in politica e oggi è un parlamento con i 5 stelle io lo disconosco e già qui si è capito insomma da che parte sto però era un certo Nicola Moro che mi insegnava filosofia ancora era un ragazzo era neolaureato mi ha aperto veramente della mente come da Messina giusto? si università studiata a Messina mia compagna di Messina e città bellissima noi discutiamo su sta cosa di Messina dove lei ci testo allora lei apprezza Messina che non l'apprezzi però secondo me ma è un po' come io su Napoli oppure tu sulla tua città cioè una serie di dinamiche se non ti slighi vanno guardate da fuori vanno guardate davvero da fuori è uno dei motivi per cui prima mi riaggancio al discorso di prima comunque scusami ripeto proprio Nicola Moro mi ha aperto la mente e diceva un po' quello che stai dicendo tu adesso e poi nel corso della vita ho incontrato altri tra cui il mio maestro di musica bluesman d'eccezione non mi ha mai voluto insegnare il blues perché dice tu non sei un bluesman tu dentro quando suoni quando canti quando scrivi non fai blues tu sei un'altra cosa e tu devi e lui ha voluto darmi quel linguaggio per continuare a fare quello che volevo io cioè poi se vorrai nella vita affrontare il blues ma perché quando ci vorrai arrivare tu devi avere gli strumenti per sonare blues ma non devo insegnarti il sonare blues infatti quello che io dico ai miei corsi è proprio questo cioè voi cioè non lo ha scritto il medico che dovete fare intanto fotografia e eventualmente un certo genere di fotografia quando andate via dalle mie lezioni dovete tornare a casa con dei punti interrogativi grossi possibili io ogni tanto guardo lì per controllare se regista sì sì no 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 io non vorrei queste sono perle ma perché perché lì ti devi rendere conto di quello che vuoi effettivamente dalla fotografia se sei in grado di prenderlo da quello che tu vuoi quello che la gente non capisce adesso ti faccio un esempio del quale parlo difficilmente perché io non parlo mai di tecnica di tecnicismi e di attrezzature è una cosa che mi sta tendenzialmente stretta però la gente non si capacita ancora non ha capito ancora perché tutti i brand di attrezzature fotografiche sulla entry level ti diano il 18-55 plasticone brutto fetente che vale 20 euro diciamo ma qua ma là allora è semplice tu sei in una fase evolutiva per cui devi ancora capire devi capire tanto devi capire se quella è la tua via devi capire se quella è la tua macchina oppure cambiare brand perché hai una serie di dinamiche legate alla percezione al sentatto al feeling e poi il 18-55 è quella ottica che visivamente parte dal grande angolo e arriva alla normalizzazione un po' più scinto della normalizzazione allora tu da lì utilizzando tutta l'escursione delle focali che hai tra il 18 e il 55 sceglierai la tua focale e quindi poi da lì saprai che vorrai un 28 un 35 un 50 un 18 quello che sarà ma lo capirai così allora quindi non sarebbe corretto da un punto di vista anche commerciale farti spendere n euro in più per una focale che poi dopo non ti servirà e allora lì la scelta ed è per questo io ti ho lo strumento loro ti danno lo strumento generico ti faccio vedere un po' cosa succede affinity il diaframma che non si apre a una certa apertura la tenuta agli alti sono una certa tenuta eccetera sono tutti elementi per cui tu poi ti troverai di fronte a devo fare sta roba la mia macchina non ci arriva perché non ci arriva perché sono io che non la sfrutto nel modo giusto oppure lo strumento che ho scelto è sbagliato e allora quindi cambio il strumento ed è secondo me fondamentale riuscire a entrare in sintonia con queste dinamiche per cui anche da un punto di vista didattico tu vai a fare un workshop con me con miei colleghi bravissimi con cui siamo amici da anni fortunatamente ma tu acquisisci un metodo che è di quella persona non puoi pensare che quello sia la Bibbia o l'unica cosa giusta da fare automaticamente tu che cosa farai prenderai un po' un po' un po' e creerai se diventerai un po' come il discorso delle fotografie e poi costruirai il tuo modo di fare e creerai il tuo linguaggio la tua visione il tuo modo di esprimerti da un punto di vista fotografico ma non solo perché oggi fortunatamente essendo la fotografia un linguaggio non verbale non è detto che tu utilizzi solo la fotografia con mistione di linguaggi l'utilizzo di grafica l'utilizzo della pittura l'utilizzo anche del solido quindi della scultura il fotografo oggi mi riferisco di nuovo a Giovanni Gassel Giovanni Gassel pensava e io condivido che da lì a quando ne parlavamo da lì a breve il concetto di fotografo non sarebbe più esistito sarebbe esistito l'autore ma sarebbero stati i venti in tutto il mondo cioè quelli riconosciuti quelli che avevano qualcosa da dire realmente la figura del fotografo da un punto di vista sia commerciale ma autoriale avrebbe intrapreso una disciplina differente dove avrebbe creato dei contenuti visivi che non sono fatti soltanto di fotografia ma non solo ma atti a trasmettere qualcosa di ben specifico in quel caso ecco la nascita da poco della figura del content creator crea contenuti la visione di Giovanni di tanti anni fa si è solidificata in questa cosa qui il content creator è quello che lui diceva non esiste più il fotografo commerciale non esiste più il fotografo di still life perché lo still life te lo fa il content creator almeno che non sei un autore dove tu ti esprimi con l'oggetto ma in una forma evolutiva per cui tu hai una visione e quindi quell'oggetto prende una forma diversa rispetto alla sua commercializzazione io condivido in pieno questa visione ma guarda anch'io infatti non ti nascondo che sempre ogni tanto io se non se non dico qualche cazzata non sono io e non mi riconoscerebbero e quanto vuoi per un appuntamento fisso con te al mese perché sei sei una rarità nel senso che no siamo in tanti non è vero però vi nascondete cazzo e questa cosa non è un bene in realtà per tutti quelli che si affacciano alla fotografia e che tu sai benissimo perché sei una persona molto attenta ai particolari e all'intimo anche delle persone che non voglio fare con te percentuali ma una grandissima percentuale di chi oggi fotografa e gente che utilizza la fotografia quasi come una terapia personale e quindi approfittarsi di questa gente o denigrarla o percularla come ci siamo detti ieri non è una cosa bellissima da fare e mancano persone come magari sei tu onesta che è disposta a condividere tutto quello che sai e che hai imparato per permettergli di esprimersi come vorrà nel tempo e di continuare ad utilizzare la fotografia come crederà opportuno ma sì allora tutto quello che dice è vero però attenzione dal mio punto di vista se io vado da un ciarlatano per comprare le scarpe ok aspettati che le scarpe poi si si va bene però il punto lo sai qual è allora vado da un ciarlatano che mi insegna fotografia allora la scelta di dove andare deve essere oculata nelle mani di chi si sposta ok io sono qui non sono qui a dirti vieni da me poi ovviamente sì da un punto di vista commerciale anche un intervento del genere serve a me serve a te la tua community per far conoscere una persona ma non ci pigliamo per il culo serve anche a me per fare in modo che la tua community sappia che esiste un cristiano come me che dice queste cose e quindi automaticamente mi sto facendo pubblicità non è un caso ma non perché non parti pubblicità ma perché è giusto che certi valori cazzo la gente riconosca no però va bene però nel momento in cui io scelgo una persona a cui andare quando finisce quel percorso è sbagliato dire non ho imparato niente dal mio punto di vista perché tu hai imparato che quella persona non è in grado di darti quello che tu vuoi quindi non è vero che non hai imparato hai imparato a selezionare le persone sono d'accordo e quindi è il passaggio successivo quindi comunque qualcosa hai imparato qualcosa a casa lo hai portato hai portato a casa che quella non è la persona giusta come nei rapporti di coppia fai esperienza ti rendi conto che quella non è la persona giusta e ti ci allontani ma non è vero che non hai ottenuto nulla hai ottenuto una consapevolezza in più e questo è quello che il grande pubblico deve riuscire a capire sei buddista no io sono agnostico tra l'altro quindi sicuro no no ho fatto sempre l'altra battuta perché per esempio neanche io sono buddista in realtà sono sempre convinto che nella mia terza età io mi farò una lai una leica un Harley Davidson e diventerò buddista perché poi sono quei percorsi che prima o poi nella vita è una crescita no che fai perché è un modo di vedere le cose da un'altra prospettiva che è la prospettiva sana che non tutti purtroppo hanno in un mondo che tu sai benissimo dove quello che funziona è l'autoreferenzialità è un po' sparare sulla croce rossa sai che funziona un po' così ascoltami se io ti faccio vedere i miei contenuti il motivo è sicuramente quello per farmi apprezzare voglio dire è abbastanza logico non te lo volevo venire a dire è ovvio la differenza qual è? è quella di autoincensarsi dove non c'è la possibilità di permetterselo allora quello è il limite però voglio dire siamo in un mondo democratico abbastanza libero fortunatamente dove dove ognuno può fare dire ciò che vuole e dall'altro lato il fruitore può decidere se stare da un lato o dall'altro ci voglio dire siamo fortunatamente apparentemente liberi poi che i media che i social ma non solo i social i media ci portino verso o almeno cerchino di portarci verso quello è fisiologico ci sono state delle grandissime milestone nel mondo della comunicazione che hanno fatto questo ma siano benvenute cioè se hanno un senso per riuscire a capire determinate cose ma benvengano chi ha il potere nelle mani deve essere quantomeno eticamente corretto e fare in modo che quel potere sia positivo non universalmente perché voglio dire non si può avere la presunzione di dire cioè imponi la mano e però almeno nel nostro piccolo perché è quello il punto non più quello che dicevamo prima sul tuo progetto futuro nel quale non parlo però è partire nel piccolo per poi avere delle belleità di grandezza dopo ma io salvo il mio ecosistema il mio mondo il mio condominio se funziona il mio condominio dopo penso all'isolato posso replicarlo dopo l'isolato penso al quartiere dopo il quartiere penso alla città fino ad arrivare al mondo intero se ho belleità esponenziali per salvare il mondo partendo da e arrivo al mondo non ci arriverai mai parto dal mio condominio per salvare il mondo e qua mi rifaccio a un cartone animato fantastico di Mignolo e Prof che cosa facciamo oggi cerchiamo di dominare il mondo ma loro dovevano uscire dal laboratorio cioè fondamentalmente il senso di quel cartone animato è quello non puoi salvare il mondo se non esci dal tuo laboratorio fondamentalmente è quello il problema Angelo domanda brutta 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 perché so già che non non la apprezzerai cos'è per te la street photography perché comunque la nostra è una community di street photography loro sanno già tutti più o meno bene che cosa è per me io ho scritto un articolo sul mio blog su questa cosa e invito tutti a leggere allora dare una definizione alla street è molto difficile quella che c'è scritta su wikipedia è una grossa cazzata ma non per colpa di wikipedia attenzione io rido perché ci ho fatto udino e ho detto anche questo dal mio punto di vista personale non è un genere fotografico ma un modo di essere e quindi qui forzo molto la mano di nuovo all'interno del mio delle mie esperienze dei miei workshop delle mie lezioni io normalmente mi riferisco a quello che fu scritto una parte della sinossi di una mostra di Tano D'Amico di qualche anno fa dove lui e questo lo dico nel mio articolo dove lui alla fine fa una sorta di introduzione alla quale dice che stare per strada richiede sicuramente attenzione e crea degli schieramenti a volte comodi a volte scomodi questa è l'interpretazione delle sue parole che poi si troveranno per l'inciso all'interno dell'articolo e lui chiude con secondo me una frase bellissima che dà la percezione di tutto che cosa succede niente sta solo passando la vita fondamentalmente è quello noi abbiamo un dovere un vero e proprio dovere da fotografi di strada quello di raccontare storie di persone che non conosciamo e fare in modo che un giorno ci siano dei documenti nelle mani dei posteri che sappiano come vivevamo cosa facevamo come ci muovevamo cosa succedeva e questo qui è un dovere la triangolazione tra azione quinta e soggetto diventa fondamentale perché se no la foto a parte che è povera da un punto di vista di contenuto ma poi non serve a niente non serve a niente essere accademici in una fase compositiva anche utilizzando luci e ombre ma senza un contenuto che dica che cosa sta succedendo rimane fino a se stesso non serve a niente non serve a nessuno non serve neanche anzi forse soprattutto a chi l'ha creata quella fotografia non va bene io su questo sono molto d'accordo anche se io poi faccio una distinzione in più tra la street e il reportage ma c'è una distinzione c'è c'è una distinzione tra allora proviene tutto dalla street photography quindi la fotografia diretta fotografia di strada reportage fotogiornalismo storytelling fotografia documentale tutto quello che è fotografia diretta fa parte di questo grande bacino importante della fotografia che poi genera la storicizzazione all'interno della fotografia di strada c'è un qualcosa in più un plus che è la riconoscibilità delle storie della gente con interpretazione ma no ma noi possiamo anche inventare le storie cioè una storia che non esiste di una persona che non conosci tu te la puoi inventare deve essere visibile se guardo le tue fotografie di storie ce ne sono tante c'è una condizione vento io guardando no no va benissimo assolutamente allora c'è una condizione di azione reazione l'azione è quella che il fotografo decide di fotografare la reazione è l'interpretazione da parte del fruitore delle se questo connubio genera un cortocircuito immediato che non deve essere per forza livellato se vuoi voglio dire una cosa e tu ne leggi un'altra e non si toccano ma è immediata dove io non ti devo dare degli input per arrivare a quella soluzione che possa essere un titolo dell'immagine che possa essere una didascalia ma la tua reazione si confronta con il contenuto della fotografia che non è e allora si bella ma e quindi ed è quello il punto però se la gente non vive la strada intesa come percepisce gli odori i sapori tocca le persone i mezzi pubblici questa risposta non la capirà no non può avere la presunzione di raccontare storie di persone sconosciute se non le budi le persone sconosciute e vivere le persone sconosciute se ne puoi passare in strada non significa per forza averci un contatto però se hai quel tipo di presunzione dire io oggi finisco in ufficio mi vado a fare un giro tornando a casa e faccio foto cosa stai vivendo nella strada prenditi del tempo vai a vivere vai a conoscere i tuoi luoghi Mark Cohen ha fatto un libro che è secondo me uno dei capisaldi della fotografia di strada che si chiama Green Street per 25 anni 25 anni lui ha fotografato il suo isolato che è in Green Street 25 anni lo stesso isolato ha raccontato storie di persone che vedeva e si vedono anche nelle fotografie a volte c'è lo stesso soggetto replicato ovviamente in condizioni diverse quello è percepire conoscere persone sconosciute conoscere persone sconosciute pur non mai neanche salutandole noi abbiamo questo dovere ed è un dovere sacro santo noi eticamente abbiamo questo dovere e lo dobbiamo portare avanti se no la fotografia di staff fai un'altra roba vai a fare paesaggio fotografa le montagne che stanno lì da secoli e hanno bisogno di essere raccontate in un modo impeccabile perché anche lì anch'io cioè io non sono in grado di raccontare una montagna perché non è non è il mio per me è un limite però vai a fare questa roba qui che è utile e che serve non c'è non ripeto che allo stesso modo terapeutica lo ripeto l'ho detto prima cioè fare fotografia di strada non l'ha detto il medico dice fai tre volte al giorno fotografia di strada dopo i passi come una pastiglia no come la stessa cosa succede eh no ma io qua la distanza le persone impara a gestire i tuoi spazi impara a vivere il tuo ecosistema non sta scritto da nessuna parte che tu devi stare incollato alle persone come faccio io come fanno altri fotografi impara a gestire il tuo ecosistema impara a vivere i tuoi spazi quelli che io in modo errato chiamo limiti e guazzaci dentro una volta che stai riesci a riconoscere i tuoi spazi il tuo mondo il tuo ecosistema sguazzaci dentro e vedrai che comunque avrai dei risultati sicuramente nettamente superiori rispetto a quello che può essere anche un autore riconosciuto che invece in realtà non sta creando assolutamente niente solo questo è consapevolezza la fotografia la vita tutta è consapevolezza sei consapevole di determinate cose da lì parti dalla consapevolezza e vai in qualche direzione e può essere da qualunque ma devi essere consapevole ti devi fare un'analisi devi andare in analisi con te stesso io vado in analisi da anni sono una persona felice di andarci ma ah serve potto anch'io salutiamo Carmelina Magarò che è la mia psicologa saluto Beatrice Mariana Lissa ma guarda questa cosa è importantissima io poi ripeto ormai non sono tutti sono stupido perché mi piace fare un po' il cretino ma in realtà stai dicendo proprio ieri sera lo dicevo in una live che è umiliante avere sempre ragione nel senso che tutto quello che stai dicendo stai in realtà dando valore a ogni cosa che mi sono permesso di dire nel costruire questa benedetta community di F4 cioè la gente deve avere deve riconoscersi deve riconoscere prima di tutto il motivo il perché vuole fotografare vabbè allora c'è da dire una cosa che così è facile cioè nel senso che se tu hai un'idea è normale che ti circondi di persone che abbiano più o meno la tua idea in realtà può differire di qualcosa però in linea di massima avrai un bacino di persone che guardano tutte quante nella stessa direzione no in realtà sono partito veramente da zero no però ti dico fondamentalmente perché hai scelto me non hai scelto una persona diversa perché sapevi che io in qualche modo la pensavo come te no perché in realtà noi non ci conosciamo però mi leggi mi segui mi segui certo che ti seguo ma è giustissimo non è un errore voglio dire è che io in realtà in tutto quello che sto facendo sto aprendo io ho la speranza l'ambizione di trovare un confronto anche perché poi sarebbe bello ovviamente anche quello trovare chi ti dice no guarda non è come pensi tu sarebbe anche bello e interessante affrontare però è vero anche come ti dicevo prima in un mondo in cui chi riesce ad emergere di più oggi e chi prova un po' ad auto incensarsi ma guarda io non voglio dire ma è giusto anche quello cioè ci deve essere anche quello tu devi avere un bacino di persone di idee che ti diano la possibilità poi effettivamente di scegliere perché sennò diventano reggini assolutamente cioè il fatto è giusto è giusto se noi fossimo in 3-4 per dire faccio un numero a caso a insegnare e la pensassimo tutti allo stesso modo e andassimo tutti nella stessa direzione diventa una sorta di regime cioè dove tutti imparerebbero la stessa cosa dalle stesse persone l'idea la figura del maestro Perboni del libro cuore bellissimo assolutamente storicamente reale perché era così oggi non funzionerebbe non funzionerebbe questo è vero il metodo montessoriano che ha sconvolto e stravolto la didattica italiana e fortunatamente non solo è la contrapposizione all'idea del maestro Perboni che in quel caso in quel momento storico in quella situazione era giusto oggi il metodo didattico benché io pensi che faccia un po' di acqua da qualche parte è differente quindi sei d'accordo con me quando io dico che in realtà il fallimento fa parte l'errore diciamo così fa parte di un processo educativo necessario assolutamente ma tutte le persone che fanno bene le cose ma io me ne guarderei proprio io me ne guarderei bene dai chi non ha mai fallito ma anche nelle cazzate cioè fallito anche nelle cazzate non necessariamente fare una roba per la quale sei sei fottuto a vita ok cioè ti parlo diciamo quelle sono cazzate che diverse ma anche nella piccola cosa cioè io me ne guarderei bene da quel tipo di persone che non hanno mai fallito quelli lì che hanno avuto i genitori che comunque tu devi essere eccellente a tutti i costi e dovevi primeggiare a scuola nel nuoto nella danza nel pianoforte e poi oltre a studiare all'università dovevi fare il conservatorio perché eri bravo a pianoforte e dovevi essere il migliore così saranno diventati per carità migliori ma sotto quale aspetto cioè dove dove è il limite cioè siamo esseri umani se non sbagliamo c'è qualcosa che non funziona significa che siamo delle macchine allora perché lottare contro le macchine oggi che sono perfette che non sbagliano se non soltanto se c'è l'errore umano alle spalle però le lottiamo però per cercare di essere persone che non sbagliano mai però lottiamo l'intelligenza artificiale perché concedetemi il termine perfetta la lottiamo però noi dobbiamo essere infallibili scusatemi di che stiamo parlando cioè dove si è interrotta la comunicazione tra la persona che vuole essere perfetta e dove c'è la perfezione non gli piace scusami cioè non non funziona ottimi spunti di riflessione anche per prossimi ma probabilmente sarò dicendo ma probabilmente sarò dicendo cazzate assolutamente questo è il mio punto di vista dove io mi confronto tutti i giorni su tutto io con con la mia compagna mi confronto anche da un punto di vista fotografico se io ho progetti da iniziare a sviluppare per clienti e personali gliene parlo lei non è fotografa non c'entra niente non c'entra niente giusto mi confronto c'è sapere che ma che non lo so però sai come eh dici cazzo però ce l'avevo pensato e questo è molto importante ora se non ti dispiace facciamo un attimo una pausa così chiediamo un altro drink rieccoci qua nell'attesa di questo secondo giro diciamo la verità è soltanto il secondo giro che ci arriva se no magari ci prendono davvero per viziosi e non è il caso allora ti chiedevo se tu già avevi avuto modo di guardare un po' qualcosa dalla nostra community di F4 sì qualcosa l'ho visto in maniera così senza sapere cosa dirai che cosa ne pensi allora il non so allora c'è stato un periodo della storia della fotografia non tanto lontano dove era pieno strapieno di community di collettivi le situazioni che comunque portassero noi siamo stati per un periodo non tanto lontano una delle nazioni dove c'erano più collettivi in assurdo di fotografia di strada allora questo qui è un segnale è un segnale che dice da un lato che c'è un'esigenza dall'altro lato è che c'è un abuso facciamo mediamo e nel mediano nel frattempo siamo con lavori con lavori in corso come si siano determinate quantità perché poi dopo si perde il pregio e anche l'interesse e dall'altro lato invece è un segnale che comunque da un punto vista comunicativo quella roba è interessante io non faccio parte di community di nessun genere io sono una persona che ecco qui c'è ad esempio la mia presunzione come viene fuori subito perché io non partecipo a concorsi fotografici non partecipo questo è un altro argomento molto particolare no non partecipo a concorsi fotografici per un semplice motivo perché io ho la presunzione di pensare che ah nel momento in cui dovessi eventualmente vincere non è detto che la mia foto sia la migliore ma è probabilmente perché dietro di me non c'era lo stesso livello e quindi questo è presuntuoso come è presuntuoso il fatto che chi sei tu per giudicare perché in fase di concorso è un giudizio non è il giudizio di una persona che vede la mia foto e dice mi piace non mi piace funziona non funziona ma gli stai dando un voto gli stai dando un voto e tu chi sei per e quindi questo probabilmente è presuntuoso da parte mia ovviamente in forma bonaria perché può essere che quella persona che io ammiro da anni e fa parte di quel discorso che facevo prima no che ho letto nei libri di storia la vedo inarrivabile quindi per me diventa un riferimento però quel giorno c'ha mal di pancia non lo so oppure ha litigato con la moglie e quindi c'ha i coglioni girati e legge male e legge male e può essere da qualunque oppure c'è il favoritismo non solo estetico ma anche politico una serie di dinamiche che potrebbe iniziare sta liste di dinamiche da qui e finire stasera ubriachi tra l'altro se arriviamo fino a stasera bene sicuro esatto e allora quindi perché io mi devo mettere a confronto con una situazione che non mi piace grazie questo è il suo grazie grazie tutto rigorosamente in diretta questi hanno sempre dei salatini grazie non li abbiamo visti i salatini non li abbiamo però i tramezzini se ce li lascia non si preoccupi noi non li abbiamo neanche visti con la scusa dei salatini mi stavo riportando i tramezzini prego grazie comunque praticamente come le ore liete sono queste ecco questo ad esempio per dire è presuntuoso da parte mia ecco per dire non lo faccio con quella spocchia però ho la mia idea e quindi il confronto io lo preferisco diversamente io il confronto lo preferisco con le letture portfogli che poi è una cosa che ti chiederò io sono molto d'accordo con questa tua idea dei concorsi in realtà per questi motivi che stai dicendo tu fermo restando però che il confronto per me è il primo passo per migliorarsi quindi non ce l'ho con il concorso in sé certo è che il concorso è comunque viziato a prescindere da tanti fattori che possono essere anche soltanto soggettivi in quel giorno perché poi così come scattare una fotografia oggi piuttosto che scattarla domani cambia cambia proprio il significato per noi che scattiamo la fotografia perché oggi non sarà mai non saremo mai come potremmo essere nello stesso modo leggere la fotografia oggi piuttosto che domani potrebbe comunque assolutamente portare a una differenza è una penalizzazione eventualmente in caso di concorso e poi sì sono d'accordo con te anche sull'arte il concetto del voto è un po' antipatico no ma ti ripeto è una mia idea è assolutamente io il confronto lo faccio con colleghi con amici facendo vedere il lavoro confrontandomi anche con letture portfolio che ancora faccio molte volte mi capita di sentire la persona ah tu fai ancora letture portfolio cioè inteso come perché io sono lettore però in altre circostanze quindi c'è certificato quello che è un lettore non c'è una certificazione per il lettore portfolio non c'è una certificazione ma io te lo volevo far dire a loro scusa io no non c'è una certificazione come fotografo non c'è una certificazione come lettore portfolio non c'è una certificazione per nulla per quanto riguarda questo campo quello che è la riconoscibilità di una persona che riesce a dare delle motivazioni sullo spostamento di cose le letture portfolio l'avano affrontate in un certo modo puoi andare ad esempio per dire io difficilmente leggo da un punto di silettura portfolio leggo lavori già chiusi cioè inteso come tu arrivi con questo per dire che la pubblicazione di un libro dove dentro c'è un lavoro e dici ma lo leggi che ti devo leggere è chiuso è finito scusami hai già raccontato tutto non posso spostare le foto non ti posso far vedere il mio pensiero strappo le pagine allora quindi questa qui sarebbe diventerebbe una critica paradossalmente in questa qui arrivare a una lettura portfolio con una roba del genere è presuntuoso al contrario nel bene c'è quella cosa di voler far vedere che si sanno fare anche certe cose va bene quindi non voglio essere malpensante che tu l'hai fatto apposta perché perché poi non c'è questa idea voglio sperare perché se vai a fare una lettura portfolio e dici oh guarda che io ho fatto sta roba dimmi che bravo non penso perché devo andare a fare una lettura portfolio cioè non ne trovo il motivo allora quindi diventa un motivo di confronto ma io come mi confronto con te se tu mi porti già un lavoro chiuso lavoro chiuso intendo non finito da un punto di vista fotografico lavoro chiuso nel senso che è blindata sta roba qui è blindata se io non so ovviamente questo non è un po' fuori però per dire se io è giusto sta roba devo strappare le pagine spostartele e farti capire che il ritmo è diverso la leggibilità potrebbe essere questo perché anche dall'altro non ci può essere la presunzione di dire no è sbagliato e guarda che la leggibilità potrebbe essere questa qui se te la porto giù ma se te la porto giù se io come te la faccio vedere la leggibilità esatto quindi non va bene e quindi si affrontano le letture porfolio con uno spirito diverso ci sono anche letture porfolio che vanno fatte da un punto di vista commerciale cioè c'è la possibilità di fare la lettura porfolio con quel foto editor che lavora per quel giornale o per quella casa editrice che a me interessa per arrivarci l'unico modo che ho perché non rispondono mai alle mail perché non sono mai raggiungibili cioè l'unico modo che ho dove tu per 20 minuti mezz'ora a seconda del tempo sei obbligato ad ascoltarmi e quindi la io poi mi gioco tutto da un punto di vista commerciale per arrivare lì perché se funziono è stata la carta vincente perché è l'unico modo paghi la lettura porfolio si pagano paghi quello sta seduto lì chi che sia anche il padre eterno in croce scende si siede là e per mezz'ora ti deve ascoltare 20 minuti quanto è il tempo ti deve ascoltare e tu là ti stai giocando tutto da un punto di vista professionale ed è una scelta ben precisa e cia mai la affronti nel modo corretto però non mi ha risposto cioè del materiale interessante altro o meno ma perché secondo me il primo discorso di prima essendo un bacino oggi l'interesse uniboco c'è tanta produzione e quindi di conseguenza per la legge grandi numeri ci sono contenuti validi e contenuti meno validi c'è un bilanciamento l'espressione di un qualcosa del genere che poi è quello che io ti dicevo prima della registrazione e che bisogna capire che cosa si vuole bisogna mediare ma fino a un certo punto perché tu comunque hai uno scopo qual è il tuo scopo divulgativo in questo caso cosa dimulghi tutto o una selezione perfetto quella selezione che tu dimulghi se è tutto è tutto e quindi si chiude lì se non è tutto è una selezione in che modo dimulghi quella selezione con quale criterio poi anche lì entriamo nel è un criterio personale oppure è un criterio affrontato con le chiamano comitati scientifici che giustamente sono persone selezionate deputate a seconda dell'utilizzo della fruizione a selezionare le foto perché anche lì una foto che funziona sul web può non funzionare qua dentro sulla carta stampata no ma può funzionare su un altro giornale che ha una dinamica diversa quindi il contenuto realizzato non può essere univoco universale se io mi faccio una foto profilo non la posso usare per tutti i miei profili cambia facebook instagram linkedin tiktok youtube quello che è non può essere la stessa foto perché se tu pensi che diventi riconoscibile perché c'è la stessa foto ovunque hai sbagliato già in partenza se io devo fare un lavoro e lo devo pubblicare su un giornale l'editing sarà quello di dieci foto che raccontano questo a seconda del testo del giornalista se io devo fare un libro non è detto che ci siano quelle dieci foto nel mio libro perché devo raccontare un'altra cosa se devo fare una mostra non prendo quelle foto del libro e le attacco al muro devo raccontare un'altra cosa devo fare in modo che le persone facciano un viaggio all'interno della cosa che non è lo stesso viaggio che tu fai quando sfogli un libro quindi una foto che funziona qui non funziona per quello di sotto oppure non funziona attaccata alle pareti funziona tanto in un libro cioè voglio dire questo è il lavoro degli esperti dei professionisti che studiano determinate cose io ho studiato tanto ho studiato fotografia allo spazio forma facendo un corso annuale con Maurizio Montagna il mio primo docente di fotografia ho fatto un master in fotogiornalismo ho fatto un master in foto editing ricerca iconografica ho fatto un master in curatella fotografica non per lavorarci anche perché poi mi è servito anche per sborchi lavorativi ma per una mia cultura personale quando fatto il corso il fotografia cosa vuoi fare a fotogiornalismo ti rendi conto che certe foto funzionano altre no allora fai un master con delle persone deputate e ti esprime in quel canale lì una volta fatto quello andavo nelle redazioni dei giornali con le fotografie e mi rendevo conto che i foto editor sceglievano altre foto scusa ma questa qui ce l'hai così sì ce l'ho ma io ho scelto questa no no dammi quella ma cazzo è possibile e allora ho fatto un master in foto editing ricerca iconografica per capire che cosa succede e poi mi sono reso conto che fare mostre non significa attaccare con chiodi al muro e attacca dieci foto ci deve essere l'ultimo ci deve essere una narrazione ci deve essere un percorso ci devono essere degli spunti da un punto di vista puramente emozionale cose che ti devono dare dei picchi altri che ti devono abbassare il picco per prepararti all'altro picco e quindi ci sono delle dinamiche il problema dei fotografi oggi ed era il mio problema è che non sanno scegliere le proprie fotografie perché ci sono fotografi della madonna che fanno dei lavori incredibili ma non li sanno scegliere e non li sanno presentare quella che io chiamo la sofferenza del fotografo cioè legarsi a tutti i costi ai propri contenuti quella cosa è uno svantaggio è uno svantaggio perché perché non riesci a riconoscere che quel contenuto non funziona tu sei il primo a doverlo appallottolare e buttarlo nel cestino non gli altri che poi dopo a te ti viene l'ulcera perché non hanno apprezzato non credo di aver risposto adesso nel senso che ci sono le contenute ma come è giusto che sia se te l'ho chiesto senza sapere quale sarebbe stato il contenuto della tua risposta è perché mi interessa molto feedback oggettivo su un lavoro che comunque stiamo portando avanti con F4 e che non vogliamo fermare perché penso che comunque questa opera divulgativa sia importante anche per tanta gente che insomma altre possibilità non ne ha ok ok e li lasciamo con questo con quest'altra perla quindi ringrazio Angelo questi sono i saluti di rito che sono brutti perché io ringrazio voi avete ascoltato due ore la mia vita inutile dove d'altro noi ce li siamo gustati bevendo voi no e io spero al dia di tutto che riusciremo a rincontrarci poi adesso spegniamo la macchina fotografica ti racconto un altro pari di cose tanto nel frattempo che finiamo di bere e non è detto magari Angelo ci riserverà qualche sorpresa bye